Sono senza parole, sono senza parole per quello che è successo ieri sera a Milano. Sponda rossonera, si profila un clamoroso divorzio in casa Milan, ragazzi. Paolo Mardini e Enrici Massara non faranno più parte del club. È incredibile quello che è successo ieri sera a Milano. Oddio, ragazzi, vedo molti milanisti arrabbiati che dicono Eh, Maldini non si tocca, Massara non si tocca, ci hanno fatto vincere uno scudetto. Signori, voi siete gestiti da... Intanto, innanzitutto, iscriviti al canale gratis, naturalmente. Siete gestiti da Redbeard, ragazzi. Redbeard non gli interessa nulla, della storia del club non gli interessa nulla. Che si chiami Paolo Maldini, si poteva chiamare pure, che ne so, Lionel Messi, Diego Armando Maradona. A loro non gli interessa niente, a loro gli interessa il fatturato. Ecco, entrati in questa prospettiva, il Milan ai milanisti non esiste più, diciamoci la verità. L'era di Silvio è finita. Quindi, quindi sono più, c'è tante azioni sotto, c'è tanto di questo e quello. Se la Juventus, ragazzi, quest'anno non prendeva la penalizzazione, il Milan non era nemmeno andato in Champions League quest'anno. Quindi, quindi, voglio, sotto sotto, forse posso capire, posso capire la società milanista nel ripartire da zero. E fare questa clamorosa svolta sarebbe una decisione assunta dall'azionista di maggioranza, Jerry Cardinale, e comunicato ai due dirigenti nella mattinata di lunedì. Quindi ieri mattina, poi l'abbiamo saputo solo ieri sera, l'abbiamo saputo tramite la Gazzetta, Sky e Sport Mediaset, ragazzi. Ai due dirigenti nella mattinata di lunedì, mercato e i risultati sarebbero alla base delle frizioni sfociate nella separazione. E qui viene il nodo, viene il punto, ragazzi. Perché loro parlano sulla base del mercato che ha fatto il Milan, ragazzi, perché il Milan quest'anno ha fatto un calcio mercato scandaloso. Quando ti va a prendere un Vranks che non l'ha mai fatto giocare Pioli, non si sa come mai, eppure qualche cosa l'aveva fatto vedere. Pioli non l'ha voluto fortemente questo giocatore. Degetelare, ragazzi, che ha fallito, 35 milioni di giocatori, e ha fallito, ragazzi, addirittura gol clamorosi quest'anno davanti porta. E poi c'è Orighi, Orighi qualche collabora, ha fatto in campionato 1-2 massimo, forse nemmeno. Quindi poi ci sono altri vari giocatori che ha preso il Milan che non sono mai stati usati da Pioli. Quindi Pioli ha sempre usato gli undici titolari, quegli undici effettivi. E poi, come detto, i risultati che hanno portato questo divorzio. Io ve l'ho detto, questo divorzio, secondo me, è stato riportato proprio da questa cosa del mercato e dei risultati. Ora, se poi volete dire che Maldini ha salvato la stagione perché è arrivato in semifinale di Champions League, questo è un altro discorso, questo è un altro tornaconto, come dico io, perché, ragazzi, potevi arrivare anche in finale, ma se poi non la vinci la finale di Champions League, diamine, sono soldi che entrano alla società. Però, ecco, la vincitrice, tu vieni ricordato per la vincitrice della Champions League, non per la perdente della UEFA Champions League. Quindi, ecco, io la penso così. A prendere le redini dovrebbero essere l'amministratore delegato Giorgio Furlani, voluto da Red Beard, e l'attuale capo dello scouting Jeffrey Moncada, cui spetterà il compito di portare avanti la prossima campagna acquisti. Quindi il Milan c'ha già i prossimi dirigenti, c'ha già tutti, c'ha già il DS, c'ha quello lì che l'aiuterà, c'è lo scouting. Quindi, ecco, fa clamore proprio perché è stato buttato fuori Maldini, non tanto per Massara, che Massara a occhio, che il Napoli è anche intenzionato a provare a prendere Massara per il dopo giunto. Lì, ecco, quindi sarà tutto uno stravolgimento. Anche Tare ha lasciato la Lazio, però Tare non fa tutto questo clamore come è Maldini, naturalmente, ragazzi. Però, ecco, io, come già detto, posso capire la società. Investimenti sbagliati, poi loro vogliono fare questo stadio di proprietà, Cardinale vuole fare questo stadio di proprietà suo, tutto suo, per prendere più soldi. E ragazzi, tanto è così, si sa, queste aziende, queste grandi imprese, tipo Red Beard, che se non sbaglio c'ha già tre o quattro squadre, ma non mi ricordo, fra cui il Salzburgo, dove dovrebbero essere loro. Poi c'ha anche un'altra squadra in Inghilterra o in Francia, che bisogna fare attenzione perché il Milan che si è qualificato, anche l'altra squadra proprietaria di Red Beard si sarebbe qualificata alla UEFA Champions League e il proprietario è lo stesso. Quindi bisogna anche vedere quest'altro lato, no? Perché il Milan potrebbe rischiare di non andare in Champions League anche per questo motivo qui. Quindi occhio ragazzi, occhio veramente, a parte non penso che poi c'è il Salzburgo e poi chi c'era? Il Salzburgo è una squadra, oddio, ma non mi ricordo, che comunque erano sempre loro, che praticamente hanno dovuto cambiare il nome alla squadra, allevare lo sponsor Red Bull e tutte queste cose. Comunque, Aium, io rimango della mia opinione, forse scelta giusta da parte della nuova società del Milan. Io ve l'ho detto, non esistono più bandiere, non esiste più nulla. Oggi si pensa solo al soldo, Aium. Mi porti i soldi? No. Prima te ne puoi andare. E' sbagliato, sì, è sbagliato pensarla così, ragazzi, ma oramai il calcio è questo. Il calcio non tiene più conto delle bandiere e del bene fatto, perché il Milan poi, ragazzi, Maldini, se non sbaglio, fu proprio Maldini a portare Leao, Teo Hernandez, quindi Maldini le sue scelte giuste le ha fatte, le ha fatte e vi ha fatto vincere uno scudetto. Però loro guardano al bilancio, ragazzi, loro guardano al bilancio, guardano ai soldi spesi, guardano a questo e guardano a quello. Poi nei prossimi giorni di sicuro usciranno qualche dichiarazione di Maldini o di Massara, però, ve l'ho detto, si profila proprio il clamoroso divorzio, è una cosa allucinante, è veramente una cosa allucinante, io non me l'aspettavo, sinceramente, perché si era parlato Maldini anche nei mesi scorsi, parlava del prossimo anno, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, siamo intenzionati a migliorarci, anche in Champions League, il rinnovo di Leao, che secondo me è anche il rinnovo di Leao, e grazie a Maldini. Quindi, occhio, io quando ho detto, quando ho visto il nuovo contratto di Leao, che c'era questa clausola pagabile in tre rati addirittura, ho detto, stai a vedere questi come si vendono tutti, si possono vendere anche Leao, tanto che se ne fregano, si prendono i soldi, se li prendono entra in tranche e stanno a posto. Quindi, occhio a Io, occhio veramente, perché in casa Milan non gira una buonissima aria, anzi, una pessima aria gira intorno a Milanello. Poi, come detto, bisognerà vedere veramente quale sarà il motivo di questa scelta, di buttare fuori sia Massara e Maldini. Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque, ForzaNapoli, la posto Napoli 1926. Ciao a Io.